Il risultato positivo al test effettuato con il kit Agra Strip, il campione di grano duro messicano scaricato mercoledì mattina al porto di Bari. E' questo l'esito del primo blitz di Coldiretti in difesa del grano italiano e contro gli scarichi quotidiani di quantitativi ingenti di prodotti stranieri utilizzati per la produzione di pane e pasta made in Italy. Bloccati in tutto 7 camion, dei quali è stato verificato il contenuto. Dopo la prima rilevazione, i campioni sequestrati dal corpo forestale dello Stato saranno analizzati nel dettaglio nei laboratori dell'Asla di Bari e dell'Arpa Puglia. E' dura la posizione di Coldiretti, promotrice dell'iniziativa di controllo dei grani sbarcati nei porti italiani. Se il grano è contaminato da aflatossine che sono altamente tossiche e sono annoverate tra le sostanze più cancerogene esistenti, recita la nota, risulteranno contaminati anche pane e pasta che ne potrebbero derivare, poiché le aflatossine sono resistenti alle alte temperature. Senza insistere sui facili allarmismi, Coldiretti continuerà a mobilitarsi per chiedere controlli sempre più severi sui prodotti importati e l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza delle materie prime. Osceno ed indecente, così è stato definito da Italmopa, l'associazione industriale Mugnai d'Italia, il battaggio mediatico di Coldiretti relativo alle importazioni di grano straniero. Italmopa sottolinea che l'industria molitoria italiana macina ogni anno 5,5 milioni di tonnellate di materia prima, farina poi destinata all'industria pastaria. Se venisse meno l'apporto dall'estero, la produzione italiana, stabilmente inferiore a 4 milioni di tonnellate, non sarebbe sufficiente a soddisfare il fabbisogno. Si tratta di importazioni indispensabili ed onerose, che consentono l'approvvigionamento rispettando i requisiti igienico-sanitari richiesti per i prodotti nazionali. Il terrorismo mediatico messo in atto da Coldiretti Puglia recita la nota di Italmopa, oltre a ledere gravemente l'industria della trasformazione del frumento duro, appare irriguardosa nei confronti dei consumatori che hanno diritto ad una corretta informazione. Un imprenditore di Aprilia è accusato di aver spacciato per olio extravergine un mix di oli frutto della miscelazione tra olio d'oliva e olio per lampade. Le indagini sono iniziate nel 2013, concentrate su una partita d'olio sbarcata a Livorno. Le analisi di laboratorio hanno permesso di evidenziare la presenza di olio lampante di oliva, di provenienza iberica, non commestibile, mischiato ad un generico olio d'oliva. 100.000 firme raccolte su tutto il territorio nazionale, illustrata alla Camera la petizione di CIA ANP per chiedere l'aumento delle pensioni minime, un'iniziativa che nasce da una considerazione. Con la crisi economica la situazione è diventata difficile per i pensionati, in particolare per coloro che vivono nelle aree rurali. Grazie a tutti!